Partiamo da qua, L2 Abbiamo trovato il retto femorale di sinistra inibito Quindi adesso con l'artro steam vado a stimolare il segmento vertebrale dal quale esce il nervo spinale che poi va a innervare il quadricipite Quindi L2, L3 e L4 vado a fare L3 L4 Su L4 inspira Trattieni Fuori Torna pancia in aria Mi senti più attivo eh Pancia sotto